La Ravenna. Perché qua in Casentino? Perché il posto è molto bello, lo conosciamo già da tanti anni. Cosa vi piace? Il bosco, il cibo, il monastero, tutto? Il fresco. Il fresco soprattutto. Giorni da Bollino Rosso in città ad Arezzo sfiorati 38 gradi e così in molti cercano un riparo dall'AFA cittadina nelle montagne casentinesi. Beh sicuramente è molto verde quindi molti spazi dove fermarti un attimo proprio anche a livello mentale. Anche un po' di fresco in questi giorni? Sì ma mica tanto perché comunque è caldino anche qua però anche quello sì. Ci sono gli appassionati di trekking di natura o chi è alla ricerca di una quiete più spirituale come quella che si respira all'eremo di Camaldoli. Sono Camaldoli perché vengo da diversi anni e mi piace l'ambiente, mi piace la dimensione, l'atmosfera e quindi quando posso vengo a trascorrere qualche giorno. E si trovano tante risposte, si trova un'atmosfera diversa, una spiritualità più approfondita insomma poi una natura meravigliosa. Sono molti turisti che scelgono le foreste casentinesi ma all'ombra dei boschi del Casentino anche tanti aretini alla ricerca di un po' di fresco. Sì io cammino tutti i giorni quindi vengo solo a fare trekking perché è il posto ideale perché ci sono gli alberi, è fresco. I giorni più bollenti saranno comunque quelli di giovedì e venerdì quando la colonnina di Mercurio continuerà a salire e la calura opprimente si registrerà in tutta la regione. e giù abbiamo la cappa di umidità, la affa che ci uccide, qui si respira quindi anche 37 gradi si sta che è una meraviglia.